Tommaso Zorzi, nella prossima stagione TV approda Discovery, la conferma. In queste ultime ore la fanpage Instagram di tvblog.ita, giocato con i follower al gioco delle domande e della risposte sul futuro dei personaggi TV e delle varie trasmissioni. In questa circostanza un follower ha chiesto senza indugio alcuno se è confermato che il futuro in TV di Tommaso Zorzi sarà su Discovery, domandando inoltre se ci saranno possibilità di un suo successivo ritorno a Mediaset, dove ha iniziato a fare i primi passi in questo mondo. E la fanpage del portale web televisivo ha confermato che al momento ci sarebbe solo questo progetto in ballo. Così avrà anche modo di farsi le ossa in una realtà molto più piccola, rispetto a Mediaset. Tommaso Zorzi si sposterà su Discovery per continuare la sua crescita professionale. Tommaso Zorzi tornerà a Mediaset dopo il suo approdo a Discovery? L'ipotesi. Su un possibile ritorno a Mediaset di Tommaso Zorzi dopo questa sua parentesi a Discovery, la fanpage Instagram di tvblog.it non ha escluso affatto che tale ipotesi possa realizzarsi in un futuro nemmeno troppo lontano. Nel prossimo futuro non è previsto, ma non è detto che successivamente Tommaso Zorzi non possa tornare a Mediaset. Intanto Tommaso Zorzi, il quale si è chiarito con Angela Melillo, ha già confermato che a partire da settembre tornerà in tv, aggiungendo che presto darà succose anticipazioni su cosa farà. Si segnala che diversi rumor hanno riportato che Tommaso Zorzi sarà giurato in Drag Race Italia. Sarà vero? 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 Vero?